Antonella Fiordelisi, l'ex lancia accusi pesanti, ha studiato dei prima di entrare nella casa per non sembrare stupida. Gianluca Benincasa spara a zero su Antonella Fiordelisi, concorrente del grande fratello VIP. L'ex dell'influencer l'ha sempre supportata nel corso delle reality, ma da quando gli è stato negato l'ingresso nella casa con minaccia di provvedimenti legali le cose sono molto cambiate e ha spesso attaccato la Fiordelisi. Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica dopo la nascita del secondo figlio, non voglio darglielo. Cosa ha detto? Fedez torna su Instagram, ma dichiara ancora nessuna traccia, cosa ha pubblicato? Nella sua pagina Instagram ha pubblicato diverse storie in cui ha parlato proprio di Antonella. Senza mai citarla apertamente. Benincasa l'ha accusa di aver studiato dei veri e propri copioni prima della sua partecipazione al reality, perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. Lo invece ne ho tutto diritto, ha esordito Gianluca, dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare. Comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida. Ha poi spiegato cosa gli ha dato fastidio, si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l'odore e il sapore, ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d'amore fatte, io mi sono stato sempre zitto e l'ho sempre difesa. Quando c'è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di coline affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker. Non nasconde poi di essere molto arrabbiato. Lume redante printre dalle aculte, incerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rub capete lumea de din capă rupte, obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist dar liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Totto, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, tre' să-ti...